SIGEP 2023 continua, ci troviamo allo stand di Caffè Cremoso, il caffè di Napoli e siamo in compagnia di Walter Wurzburger, il titolare e direttore generale dell'azienda. Walter, benvenuto. Benvenuto a tutti. È il momento di poter andare a presentare questo brand che da circa tre anni è sempre più presente anche qui, non solo sul mercato, prima in forma locale in Campania, successivamente in varie regioni italiane. Voi siete qui innanzitutto per espandere sul territorio nazionale il vostro prodotto. Sì, siamo qui per far conoscere in modo nazionale ma anche internazionale come già stiamo facendo il nostro prodotto con un riscontro veramente positivo come si può notare alle nostre spalle. Cremoso che è un'azienda nata a novembre 2019, dopo due anni di pandemia e un anno di lavoro intenso siamo riusciti a fornire tante altre nazioni oltre quella italiana come la Spagna, il Portogallo, la Germania, la Polona, l'America, un po' ovunque. Quindi grande appeal, grande richiesta per questo nuovo marchio che non è altro che una versione migliorativa di ciò che già facciamo da oltre 130 anni. Diciamo che il suo non è un parlare solo da titolare del brand e direttore generale dell'azienda. Io da Coffee Expert posso dire che riesco a trovare nella miscela che offrite qui a SIGEP 2023 un prodotto assolutamente equilibrato, dolce, che non ha bisogno nemmeno di essere zuccherato. Sì, questa caratteristica è dovuta alla intensa selezione che facciamo con i più grandi assaggiatori di carattura internazionale per scegliere solo il meglio che si può trovare sul mercato. I caffè dolci sono i caffè di qualità e noi usiamo soltanto miscele selezionate che vengono selezionate prima in piantagione, poi vengono ritestate e riselezionate quando arrivano da noi in azienda. Questo fa sì che la composizione di tutti questi caffè provenienti principalmente dal Centro America e dal Brasile lasci questo retro gusto cioccolattato e dolce. Walter, allora creiamo un attimo di attenzione su quello che è lo storico, del tuo know-how, perché tutto proviene da lì. 130 anni di storia nell'ambito delle torrefazioni, non sono pochi mesi, insomma sono un secolo e più. Sì, dal 1892 che la nostra famiglia lavora il caffè, da quando c'erano Bartore Fazioni che si lavorava giusto nel quartiere, poi man mano le aziende sono cresciute ed oggi con questo nuovo marchio abbiamo insomma dato il meglio di noi. Facciamo un caffè di altissimo livello, è sempre più richiesto soprattutto nel mercato napoletano, dove oggi siamo tre le aziende più presenti dopo solo tre anni. Voi siete qui, come dicevamo prima, innanzitutto per espandere la vostra rete commerciale. Si sa, attraverso la rete commerciale si fa in modo da trovare nuovi clienti, fidelizzarli, un'oltre che hanno assaggiato il vostro prodotto e dunque esiste un indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per poter entrare in contatto diretto con voi? Sì, il nostro indirizzo di posta elettronica è info-lacrimoso.it, tante sono già le richieste dei tanti agenti che vogliono collaborare con la nostra azienda, per collaborare con la nostra azienda una volta fatto la presentazione con un curriculum verrà fatta una vera e propria formazione, affinché il nostro agente non sia un venditore ma sia un vero e proprio consulente dell'attività commerciale. Noi seguiamo tutto l'iter operativo del bar, partendo sia dalla formazione del barista, quindi facendo corsi di caffetteria con i campioni italiani di caffetteria e corsi di latte art con i campioni italiani di latte art. Facciamo anche un'assistenza tecnica sui macchinari affinché possano esprimere il meglio ed essere sempre efficienti e poter avere poi il migliore risultato in tazza, cioè il vero e proprio espresso napoletano rinomato nel mondo. E allora ora ci aiuti, fatta l'intervista, a non sgomitare per riuscire a prendere un buon caffè al bar perché vedo che la fila per l'attesa è diventata davvero lunghissima. Dai, per te facciamo un'eccezione, scavalchiamo la fila. Ecco, sono raccomandato in questo caso. Grazie, molte grazie. Walter, benvenuto nel Club dell'Orica. Grazie a tutti, buon proseguimento e buona giornata.